Ah, deve vedere il giardino prima di andarsene, deve proprio! I miei fiori vincono sempre dei premi Tutti ne parlano in giro Voilà! Le mie rose gialle Il mio giardino Ah, mia figlia Cara, abbassa per favore Posso offrire una casa comoda Un giardino assolato Un'atmosfera tranquilla Le mie torte di ciliegie Bene, ma non abbiamo parlato di quanto Oh, beh, una cosa simbolica, diciamo Duecento al mese? Sì, direi Compresi i pasti, gli spuntini serali, eccetera Sì, è molto ragionevole e molto carino Non potrebbe trovare niente di meglio a Ramsden No, e quando le farebbe comodo che mi trasferissi? Anche adesso sarebbe sciocco che lei andasse in albergo Le mie valigie sono le tasse Lei è una donna d'affari molto persuosiva, signora Grazie Qual è stato il fattore decisivo? Il mio giardino? Credo che siano state le sue porte di ciliegie Grazie Grazie